Un'esperienza bellissima perché per la prima volta credo si sia verificata una cosa un po' anomala che poi mi sta a cuore perché è il soggetto del mio nuovo documentario e cioè che sono stati messi insieme tutti questi nuovi, questa nouvelle vague come io la definisco di puntisti o narratori orali che vada dai musicisti come Mario Budine che riprende la tradizione appunto dei canto storie di Ciccio Busacca qui della Sicilia orientale, a Vincenzo Pirrotta, a Gaspario Pazzo ma poi sono gli di Mimo Budicchio sono stati messi insieme per capire dove va questo punto oggi ed è il soggetto del mio documentario che sto provando a costruire, si chiama Puntami Sicilia, punto esclamativo, dove Sicilia sia un complemento oggetto cioè Puntami la Sicilia è sia vocativo, Puntami o Sicilia ed è un viaggio in un furgone rosso carico di pubi e di puntisti e di la truppa cinematografica in Sicilia per raccontare appunto questo nuovo esercito di narratori orali che è una specie di avanguardia siciliana che sta tornando alle grandi storie del passato, epiche di cui abbiamo sempre più bisogno per raccontare il nostro presente.